Perché se lo meritano, grazie E complimenti sempre per la vostra passione e sempre per le nostre gare Arriva un attimo, arriva, prego Presidente, a te Al sesto posto, col numero 3, Antonelli Gianluca Al quinto posto, col numero 5, Casolari Francesco Al quarto posto, col numero 4, Eddie Madoer Categoria difficile, primi tre avvicinate, grazie Al terzo posto, col numero 2, Gennari Silvio Prima e secondo, si avvicina Al secondo posto, col numero 1, Gaddio Lippalo Vince la categoria, col numero 6, Di Bella Francesco Al secondo posto, col numero 6, Di Bella Francesco Al secondo posto, col numero 6, Di Bella Francesco Al secondo posto, col numero 6, Di Bella Francesco Al secondo posto, col numero 6, Di Bella Francesco